Sarà una gara all'insegna dell'integrazione, in quanto abbiamo atleti FIMP e atleti FIN ed è anche dell'ente di promozione che careggeranno negli stessi percorsi. La gara dei 1.500 sarà dedicata agli atleti con classe bassa, sarebbe la classe dall'S3 all'S6, per poi avere la gara dei 3.000 dove ci saranno le classi alte che sono dall'S7 all'S10. Per classe si intende la classificazione che viene data a un atleta in base alla sua disabilità, meno disabilità più la classe alta. Nini Gambino, come sempre una Mondello che è particolarmente attenta al mondo paralimpico? Assolutamente sì, un Mondello già da più di dieci anni e noi abbiamo, come tu sei benissimo, una spiaggia all'interno dell'Ombelico del Mondo attrezzata per i ragazzi che hanno problemi di demolazione. Abbiamo sempre fatto delle bellissime manifestazioni e quest'anno a livello nazionale abbiamo voluto fortemente una tappa del circuito nazionale a Palermo. Una bella vetrina per noi palermitani e per noi siciliani. Arriveranno una cinquantina di atleti da tutta Italia, più atleti siciliani, come diceva Giacomo, abbiamo anche ragazzi che sono della fine dell'enti promozione. E' una gara aperta a tutti, una gara open e Mondello è una grandissima vetrina e si sposa bene per la nostra attività. Abbiamo il mare, la cosa più bella che c'è su Palermo e sfruttiamo quello che abbiamo. In questi anni abbiamo avuto problemi di impianti come piscine e diciamo che stiamo puntando sulle acque libere. L'abbiamo perché non farlo? Gli sport sono tutti uno sport di integrazione, ma secondo me le acque libere c'è quell'integrazione che altri sport non possono dare. Si parla molto di integrazione, ma quando si vedono atleti normo con disabilità, notare insieme, molte volte, e si vedrà anche durante le gare, molte altre disabilità arriveranno anche prima degli altri di normo. Questa è integrazione, integrazione che solamente il mare riesce a dare più di tutto.